Consacro il cammino dei cinque passi e anche questo passo di questa sera a Maria, madre dell'oratorio Aveo Maria piena di grazia del Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte angelo di Dio che sei il mio custode illumina custodisci reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Prima di incominciare una descrizione di come è avvenuta la preparazione di questo passo è stato un passo relativamente semplice cioè che si è formato un pochettino da solo perché ho ricevuto dei contributi molto significativi adesso vi spiego in che senso cosa intendo per contributo significativo cioè che mi hanno toccato per la sincerità di chi mi stava scrivendo cioè erano si percepiva proprio una sincerità come un grido a volte doloroso a volte però sempre molto consapevole molto a mio avviso lucido molto anche aperto non chiuso non semplicemente una visione disperata ma anche propositiva e così in un certo senso il passo si è formato da sé qualcuno di voi si ricorderà ho fatto un passo tempo fa sull'adolescenza e avevo chiesto a un'attrice di leggere questa lettera intitolata il grido una lunga lettura ecco era e rimane secondo me una chiave di lettura eccellente per capire il disagio di tanti ragazzi di tanti adolescenti tanti giovani vi invito andarla a recuperare bene l'impressione che ho avuto con questo passo ecco è stato di trovarmi di fronte a dei contributi a delle a delle proposte molto vicini a quelle a quel testo si dividerà in due parti quindi diciamo l'incontro di oggi molto semplice come struttura la prima una sorta di radiografia della della questione c'è il tema quello dell'innocenza il tema quello della dell'infanzia questa immagine questa locandina con tre bambini vestiti già da adulti con la faccia molto seria molto ingrugnita c'è che cosa resta dell'infanzia c'è ancora spazio per l'infanzia l'età dell'innocenza esiste ancora l'età dell'innocenza quindi la prima parte è la lettura molto calma di questo di questo contributo che mi è arrivato ma maestra alla luce della sua esperienza da dieci anni di insegnamento quindi dieci anni che ogni giorno incontra e vede bambini a me sembra che oggi l'infanzia sia il vero prodotto di uso e di scarto dell'occidente insieme alla vecchiaia e oltre a colpire una dimensione sanamente naturale quella della formazione integrale integrale della persona sin dall'infanzia tutto questo non può non toccare anche la dimensione spirituale dei bambini che sono ostacolati nell'essere se stessi cioè bambini l'essere bambino non è soltanto un fatto anagrafico è un fatto dell'essere nel mio lavoro assisto ogni giorno a questo triste processo nel quale un poco alla volta si ruba l'infanzia si toglie l'innocenza la semplicità la spontaneità la docilità e si snaturano i bambini aperta parentesi o almeno si tenta consapevolmente o no perché poi il signore mette la verità in ognuno in ognuno di noi come diceva chiara corbella e come una pianticella che persino nel cemento c'è qualsiasi buchino per uscire alla luce anche la vera natura dei bambini quando ne ha l'opportunità emerge e quindi si può recuperare direi principalmente che l'egomania accuratamente coltivata in loro corrode dall'interno quell'umiltà e piccolezza che i bambini naturalmente avrebbero assistiamo bambini continuamente messi al centro di tutto fotografati ripresi in ogni istante selfie video social vetrine virtuali fotografie fotografie almeno fossero scatti rubati senza farsi notare lasciando la spontaneità invece no bisogna sempre farli mettere in posa farli sentire guardati e ammirati praticamente adorati come piccole divinità persino quando si esce da scuola per salire su un pullman e stare in gita mezza giornata vedi capanelli di genitori appostati come paparazzi con i cellulari per firmare i loro piccoli cocchi nel momento così unico e irripetibile che è una delle quattro cinque gite scolastiche dell'anno nei panni dei bambini e anche nei miei dato che purtroppo sono la prima della fila ad essere ripresa aprendo io la fila mi sentirei una star di hollywood peccato che nella coscienza di un otto novenne non sia tanto chiaro che la realtà è molto più terra terra l'egomania si nutre e si ingrassa anche attraverso tutti quei no mai detti adulti che danno ai loro bambini un grande potere per la pigrizia per la comprensibile stanchezza o forse anche per la sempre più diffusa incapacità di dire dei no con decisione ma soprattutto con saggezza i bambini così diventano dei piccoli dittatori capricciosi che dettano le regole di tutto dal nome del fratellino neonato alle vacanze alla scelta della scuola al menù del pranzo e della cena ai vestiti da comprare da mettere non rendendosi conto i genitori che dare potere su queste cose porta inevitabilmente a uno squilibrio interno che poi si esprimerà in disagi vari in cui tu sei piccolino eppure hai il potere di muovere una quantità eccessiva di cose intorno a te ma ancora non hai l'intelligenza e la maturità tutte cose nelle quali noi non dovevamo affaticarci e provvedere a noi stessi perché qualcun altro se ne occupava per noi sempre in questa direzione è desolante osservare la contraddizione con cui molti bambini ancora in culla già vestiti da piccoli ometti molto cool con jeans in miniature mini nike ai piedi vengano trattati da piccoli adulti su certe cose come quelle dette sopra e poi su altre quelle con le quali si dovrebbero misurare nella loro crescita vengono lasciati eternamente infantili molti di loro dormono in camera se non nel lettone dei genitori praticamente fino all'adolescenza quando dal lettone della mamma e del papà passeranno a quello dell'amoroso del moroso senza aver mai provato il brivido di stare da soli con se stessi non vengono condotti a sostenere qualche frustrazione cominciando dalle piccole cose quotidiane per cui anche un voto non eccellente a scuola diventa motivo per andare a lamentarsi dalla maestra che dovrebbe correggere di meno per non scoraggiare il bambino vengono sottratte loro tutte le occasioni di affrontare delle piccole normali paure o fatiche della loro età per non traumatizzarli e così non diventano mai responsabili di se stessi perché c'è sempre chi supplisce e chi li giustifica c'è poi qualcosa che veramente mi fa indignare con tutta me stessa e che purtroppo vedo sempre più spesso l'innocenza rubata inculcando loro specialmente nelle bambine un'idea o un modello del mondo femminile totalmente distorti i giocattoli delle bambine sono tutti orientati e orientanti delle piccole bambole dagli zigomi altissimi gli occhi enormi le labbra gonfie e corpi dalle curve imbarazzanti sono quegli oggetti che dovrebbero essere caldi e rassicuranti che le bambine hanno tra le mani per anni e con i quali si misurano e si confrontano e intanto l'idea il modello di come di ciò che una donna è viene assorbito a regola d'arte cosicché non appena avranno l'età sufficiente per ricorrere al chirurgia plastica e sumignare a quelle pseudo donne con cui hanno giocato tutta l'infanzia lo faranno per forza perché vedendosi allo specchio si vedranno troppo diverse da quel modello inesistente in natura bevuto quasi dal biberon e ritrovato a conferma in tutti gli spot in tutte le riviste in tutto il mondo femminile degli adulti vestite ancora piccolissime con pantaloncini inguinali praticamente mutande non c'è senso del critico del bello della finezza che invece si cure si cultiva da subito e non è un problema moralistico abituarsi a vestirsi come giulia roberts in pretty woman farà un'immagine darà un'immagine di sé del mondo femminile come di bambole che devono solo solleticare le fantasie erotiche del mondo maschile e pure femminile oggi ma le donne non avevano lottato tanto per avere una dignità propria e poi si accontentano di essere delle bambole per il sesso è servito a questo raggiungere la pari dignità con l'uomo e non finisce qui purtroppo quanto spesso vedo le mie bambine tuercare durante le ricreazioni ma davvero dobbiamo far finta che non ci dispiace a vedere questo davvero dobbiamo fare finta di credere che questo non abbia a che fare con l'innocenza o peggio davvero dobbiamo fermare a tutti i costi che l'innocenza non è più un bene prezioso che è qualcosa di obsoleto da mettere tranquillamente in cantina con vecchi e inutili orpelli molto collegato a questo io vedo che tutto ciò che dovrebbe essere pensato per i bambini viene trasformato in qualcosa che debba sempre imitare il mondo dei grandi non degli aspetti sani ai cui i bambini sono chiamati ad arrivare nella crescita ma nella malizia oltre ai giocattoli anche l'ironia dei film di animazioni ad esempio che infatti fa ridere gli adulti più che i bambini i programmi televisivi ormai in realtà in rete nei quali regolarmente c'è il femminile che schiaccia il maschile trattando il mondo maschile come se fosse deficiente e mi viene da dire uomini ma non vi siete scocciati di essere trattati come pezze da piedi va bene la rivalsa femminile per alcune ingiustizie subite ma adesso mi sembra veramente anacronistico e secondo me non se ne può più è triste assistere a tutte le recite scolastiche ma anche spettacoli teatrali veri e propri per l'infanzia film di animazione in cui quel che conta è solo far ridere irregolarmente ciò che accade con il cliché femmina che ridicolizza il maschio anche questo impedisce lo sviluppo sano dell'infanzia anche questo crea da subito uno squilibrio nei rapporti e poi il tema del divertimento tutto deve essere divertente come se l'unica dimensione sensata della vita fosse il divertimento ho sentito dire buon divertimento ai bambini che entrano a scuola e ho sentito chiedere ahimè ti sei divertita a una prima comunione alla messa intendo ma che idea abbiamo e vogliamo tramandare della bellezza del bene e del buono infine il tema delle separazioni tra i genitori degli abbandoni delle mancate testimonianze di fedeltà alcuni bambini dopo che ho preso l'abito mi hanno chiesto ma se un giorno cambierai idea e vorrai mollare potrai farlo se posso essere sincera mia scioccata non mi capacito di come questo pensiero possa affacciarsi nella mente di un bambino che naturalmente portato al per sempre in tutto è una frase tipica sarai per sempre la migliore amica ad una bambina magari conosciuta poche ore prima sotto l'ombrellone o tra i banchi di scuola quanta sicurezza dobbiamo aver frantumato in loro quanto dobbiamo aver remato contro a una naturale tendenza così forte e l'esito è osservabile in una frase emblematica ed agghiacciante di un'altra mia bambina che sconvolta nell'aver scoperto che una nostra collega è sposata le ha spiegato io pensavo tu non fossi sposata se perché sei così simpatica così divertente sembri così single ce n'è anche per voi adesso io non so se sono solo io davvero un problema con questa frase vedo adulti ridere a una frase come questa senza ragionarci sopra e questo mi spaventa io non so se sono solo io pensare che questa frase sia di una tristezza mortale io la penso io lo penso io mi scandalizzo se una bambina di nove anni pensa questo lo dico con tutta la voce che ho e credo che sia molto sfortunata sfortunata se la pensa così e non mi stupisce che la mamma separata e riaccompagnata mi abbia confidato che la bambina a casa è nervosa perché non riesce ad accettare la separazione dei genitori e il nuovo compagno naturalmente la bimba parla di questo come se fosse tutto normale così perché tutto intorno a lei le impone di crederlo e di affermarlo ma non è così non è normale dover patire il trauma questo sì che lo è delle due colonne portanti della vita di un bambino che si respingono ed è invece normale che lei ne soffra e lo dico con completo rispetto verso questi genitori carini gentili e in gamba io parlo perché so il bene inestimabile e ineffabile che è vedere i propri genitori fedeli l'uno all'altro per una vita intera per 53 anni oggi a 41 se i miei genitori si separassero io ne soffrirei tremendamente perché un bambino deve essere sottoposto con tanta facilità a questa situazione non solo dolorosissima ma che inciderà così drammaticamente sulla sua crescita togliendogli sicurezza e innocenza perché deve essere ostacolata una cultura che incoraggi sostenga la fedeltà nei legami tanto che lo spot di esse lunga ha suscitato il rugito dei più io vedo dall'altra parte che affaticarsi per restituire ai bambini qualche frammento di infanzia sana normale qualche piccola oasi di infanzia li fa felici quelle cose che abbiamo vissuto noi da piccoli niente di eccezionale non credo che l'unica possibilità per poter fare loro questo regalo sia avere una laurea in pedagogia vedo che è molto importante dare loro un recinto netto e chiaro dei limiti che non possono oltrepassare si affezionano in maniera impressionante a chi fa questo con dolcezza ma anche con molta fermezza con normalità direi vedo che sono sereni quando hanno davanti a sé adulti che non permettono loro di mettersi allo stesso livello adulti che si fanno rispettare vedo che offrire loro momenti di monotona tranquillità di ascolto del silenzio di riposo nel silenzio li fa stare bene se vengono condotti a vivere momenti in cui il frastuono il rumore a cui sono abituati da tv e cellulari sempre in funzione e a mille attività viene sospeso stanno meglio ma quanta fatica ci vuole per condurli a saper stare qualche pugno di minuti così noto che abituarli da piccoli ad ascoltare anche canzoni da infanzia che non siano solo i tormentoni pop del momento li fa sentire più se stessi più bambini vedo che quando si mostrano loro libri con disegni belli e curati invece di quegli orrendi disegni stilizzati ormai dilaganti in tutta l'editoria per l'infanzia li apprezzano tantissimo sono una gran fan dei giocattoli e dei disegni belli di quelli rassicuranti caldi che ti fanno pensare proprio all'infanzia i giocattoli vanno scelti con cura va ricercata la bellezza la sobrietà l'armonia perché i giocattoli educano faccio invece tanta fatica a far apprezzare loro libri classici per l'infanzia solo i più abituati a leggere li apprezzano ma gli altri non sono abituati a un linguaggio ricco non dico forbito ma semplicemente non povero non di bassissimo livello a natale mi piace decorare l'aula con addobbi non pacchiani non vistosi sobri gli eccessi stordiscono e creano disequilibrio luci presenti per mesi e mesi addobbi natalizi che iniziano subito dopo halloween e che continuano sino al carnevale indeboliscono anziché rafforzare il senso della festa ma certamente favoriscono gli acquisti e catapultano in un mondo che somiglia di più a una discoteca che non all'orizzonte familiare della festa per non parlare poi dell'abitudine ormai diffusa ovunque di lasciare delle lucine natalizie in tanti negozi specialmente bar e ristoranti dodici mesi l'anno questo semplicemente toglie lo stupore nel momento in cui arriva il vero momento degli addobbi ecco assistiamo a un mondo fintamente per bambini in cui è tolto lo stupore perché tutto è dato in eccesso sempre senza pause senza i tempi normali ciò che osservo dalla mia postazione di lavoro e non solo e che oggi l'infanzia non è custodita non è protetta in verità è letteralmente asfaltata a favore di interessi di altro tipo per quanto riguarda le grandi macchine dell'economia e a causa di tanta stoltezza che ci lasciamo somministrare con grande facilità per la poca disponibilità e abitudine a usare un po di semplice senso critico nelle cose e a riflettere prima di farle mille abitudini culturali sbagliate a cominciare dalla mania delle foto vengono dalla superficialità con cui sono accolte dagli adulti e chi ne paga il prezzo maggiore sono i bambini che vengono defraudati della loro infanzia però voglio concludere con una riflessione di speranza noto che i bambini se trovano un terreno in cui possono svilupparsi secondo la loro più vera natura danno subito frutti molto belli ma che io vuoi di fai un applauso e io vuoi di che io vuoi di c'è qua è difficile di ma è sì però c'è qua nasce veramente da chi ogni giorno sta con i bambini si vede non è una polemica sterile bisogna anche lì avere sesso critico di distinguere una polemica sterile così a prescindere da un grido di dolore che di sofferenza che nasce dal quotidiano dall'esperienza io posso solo aggiungere che è da vent'anni che faccio catechismo e questa cosa ad esempio dei recinti dei limiti dell'evidenza che di chi che le regole vengono poste dall'adulto e che non siamo assolutamente allo stesso livello è qualcosa che era serena i bambini li fa veramente riposare gli da veramente grande serenità continuo aggiungo che noto quanto i bambini e anche qui non ci per una laurea in pedagogia ma semplicemente ricordare di quando eravamo bambini amano molto che gli si tratti seriamente io quando parlo con i bambini parlo così come sto parlando adesso a voi sono testimone i catechisti gli aiuti catechisti che vengono quando sono dov'è madre maria maglia quando parlo ai bambini parlo così parlo così da adulti questo lo gradiscono molto lo apprezzano tantissimo niente paternalismi niente gne 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 8 9 anni perché perché mi ricordo bene quando ero piccolo quanto mi piaceva che un adulto mi trattasse seriamente anche perché e lì sono nate le domande grandi dei bambini le domande dei grandi dei bambini nascono dalle vere domande dei grandi dei bambini e quelle domande sono tutto tranne che semplici sono domande verticali di grande profondità metafisica sono domande di filosofia domande di teologia complicatissime che chiedono non la superficialità o addirittura l'evitare di rispondere alla domanda perché non sia in grado di rispondere ma richiedono la semplicità che è un'altra cosa semplicità non è banalità superficialità questo è qualche cosa che voglio aggiungere io vorrei aggiungere nelle risposte alle domande sicuramente ci saranno tante considerazioni ho ricevuto una bella email da una nonna che è stata insegnante mamma una lettera da una giovane mamma che è molto breve quindi vi aggiungo questa ha avuto molti bimbi questa questa mamma sono delle e quello che mi colpisce che una donna che l'umiltà con talmente tanti bimbi potrebbe invece l'umiltà con cui si pone sono piccole considerazioni che nascono semplicemente dalla vita vissuta quindi forse sono banali ma io chiamerei banali sono dieci righe tutt'altro che banali ma io chiamerai l'infanzia l'età della verità ciò che mi commuova ancora nonostante il numero di figli e questo loro riconoscere in modo immediato la verità delle cose a partire da un'età molto tenera e il loro stupore la cosa peggiore che si può fare a un bambino e dirgli una menzogna perché lo riconoscono immediatamente e perché un'enorme ingiustizia che infrange la fiducia che ripongono in noi adulti forse anche per questo che amo stare con i bambini perché non permettono finzioni in un mondo in cui le menzogne sono diventate addirittura diritti perché ti metti a nudo davanti a loro senza maschere e loro ti vedono nella tua verità un po' come mi azzardo davanti a dio c'è e anche questo più che altro più probabilmente nella risposta alle domande una bellissima contributo di una figlia che mi ha proposto dei testi presi da Dostoievski da Dickens proprio sull'infanzia che sono una 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 delizia e ancora altro allora vengo alla mia parte dopo questo non so come chiamarla questa scannerizzazione di una di un qualcosa di oggettivo io condivido profondamente questa affermazione che l'infanzia è scartata al pari della vecchiaia io sono straconvinto c'è il vezzeggiamento soprattutto dei neonati dei bambini piccoli non c'entra nulla con l'amore dell'infanzia e l'amore dei bambini perché i bambini se mi permettete sono molto rigorosi lo vedo quando sono a scuola sono molto rigorosi sono molto seri in realtà quindi sono è molto gradito quel momento perché sono pressa poco dei cuccioli da spostare ma sono molto diversi sentite cosa dice questa nonna esperta dice una frase molto che mi ha colpito molto lei dice questa l'infanzia questa sconosciuta l'infanzia troppo spesso viene considerata come un periodo di crescita soltanto prevalentemente fisica non è così è giustissimo il bambino più piccolo e più è piccolo e più viene ritenuto un esserino la stregua di un cucciolo di cane incapace di capire di pensare che ha bisogno soltanto di essere alimentato e custodito nient'altro chi si pone molto pochi chi si pone scusate non riesco devo aver saltato una frase pochi considerano che l'infanzia è il periodo più importante della vita di una persona anzi ne determina l'eterno l'intero futuro qua c'è una cosa che dice questa signora che non sono pienamente d'accordo cioè effettivamente non esporre i bambini ad esempio a cose terribili come telegiornali e tutto però rimango convinto che quello che è fondamentale è dire sempre loro la verità si può dire ogni verità ai bambini proprio come gliela dici il contesto in cui la dici il modo penso che non siamo in conflitto su questa cosa che non la pensiamo diversamente non bisogna caricare i bambini esporle di cose che non possono essere assolutamente comprese o portate ma di fronte alle loro domande a cose che vengono da loro si può tranquillamente dirgli sempre la verità quindi sono con d'accordo sul fatto che l'infanzia al di là dell'apparenza è totalmente asfaltata io direi scartata e aggiungo che il mio piccolo contributo questo è veramente piccolo la mia conclusione che i bambini sono come i santi se i santi sono scartati i santi veri sono scartati inevitabilmente dice Gesù lasciate che i bambini vengono a me non glielo impedite perché come loro infatti appartiene il regno di Dio io vorrei che tante volte voi poteste vedere non si può ed è bello che sia così gli incontri di catechismo ma vedere la semplicità la facilità che hanno nel capire le cose di Dio si vede veramente incarnata ogni incontro di catechismo chi li ha visti qualche volta perché aiuto catechista ha visto questa questa è emozionante vedere quanto si incarni questa parola di Gesù lasciate che i bambini vengano a me non glielo impedite perché come di chi è come loro il regno dei cieli cioè non è quella idea arrotondata ripeto infantile che abbiamo dell'infanzia ma hanno proprio una serietà religiosa una serietà spirituale gradiscono tantissimo tutto ciò che è verticale in senso di profondo hanno grande stupore rispetto ai misteri più grandi della fede ma Gesù dice un'altra cosa in verità io vi dico che se non vi convertirete e non diventerete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli i santi sicuramente sono quelli che sono convertiti sono quelli che sono ritornati i bambini che lavando le loro vesti nel sangue dell'agnello cioè hanno recuperato l'infanzia dei bambini cosa significa convertirsi sicuramente hanno rinnegato se stessi hanno detto di no se stessi come dice giù se qualcuno vuole essere mio discepolo se qualcuno vuole essere santo cioè se qualcuno vuole essere veramente felice rinneghi se stesso prenda la sua croce ogni giorno hanno tenuto dentro i santi le parole di Gesù nell'ora della tentazione hanno tolto ogni giorno i santi fidandosi della provvidenza di dio le erbacce soffocanti delle preoccupazioni degli affanni della vita degli eccessivi piaceri un mio ricordo di proprio di quando eravamo bambini ed è bellissimo per me averlo perché ho la mamma e il papà davanti sanno che non posso mentire e siamo vicini a natale qual era il momento più bello del natale la colazione e lo scartare i regali assieme poi finito quel momento iniziava il momento drammatico e tutti gli anni c'è di andare dagli zii con quelli nonni ma vestirsi in un certo modo e tutte le volte la polemica che scattava ma non possiamo andare con le cugine ma non possiamo ma perché non siamo andati guarda che avevamo ragione noi i bambini aveva ragione dovevamo fare tutti i natali con le bimbe questa era la verità e ma ci sono anche gli altri andavamo un altro momento dagli altri zii a natale dovevamo andare a spaccarci di divertimento con le cuginette ci avevamo ragione noi e noi non siamo mai andati all'altra andavamo sempre uno alle sera venivano i cuginetti che spasciavamo tutto è vero hai ragione mi ero dimenticato due feste però la festa era una sola una quella dove c'era la spontaneità dove c'era il gusto di stare assieme per dirvi che i bambini non ne frega niente dei vostri amici è una cosa indotta l'abito firmato il vestitino fatto in un certo modo non gli interessa nulla sentono solo il calore hanno bisogno del calore vedo genitori che litigano sulle tecniche educative da applicare con i loro figli e che l'unica cosa che non capiscono che il bambino sta soffrendo perché litigano e non capisce neanche il motivo quello gli da dolore perché l'unica cosa che amano il calore la comunione la gente che si vuole bene e non è tanto complicato da accettare il problema che bisogna convertirsi noi adulti e uno che diventa santo rinnega a se stesso ma per fare che cosa fondamentalmente per perdonare c'è un adulto e uno che si pone in una situazione seria in cui deve decidere se perdonare o non perdonare tu hai dei confratelli li perdoni o non li perdoni il padre dio padre ti perdona tutto 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 ma ti chiede una cosa che tu perdoni tutto e senza misura a chi hai accanto e allora è più facile stare single allora è più facile stare single me ne sto da solo isolato senza nessuno vedo le persone quando voglio io se voglio io nei momenti in cui sono al top quando invece tipo in una realtà vera dove stai veramente con le vere persone lì è veramente molto complicato perché si affiora un'immagine chiara come tutto che devi decidere se perdonare o non perdonare se mollare o non mollare se avercela non avercela e lì si vede che cos'è l'amore chi molla ama chi molla chi la pianta chi lascia vivere chi smette di avercela con gli altri imparando cioè da gesù mitezza e umiltà un mio amico mi ha mandato un'email bellissima ricordandomi una cosa che l'avevo sentita me l'ero completamente dimenticata quando gesù dice imparate da me che sono mite umile di cuore prendete il mio gioco su di voi mi ha ricordato quella cosa che il gioco l'idea che i buoi sono due che tirano il gioco uno è gesù prendete il mio gioco vuol dire io lo porto da una parte vuoi dall'altra quindi il carico è per quello che è leggero perché c'è qualcuno che lo sta portando alla grande che è gesù quando tu decidi di perdonare gesù lo porta al gioco ma se tu non decidi di perdonare che l'unica richiesta del padre nostro fondamentale quella sentita rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri editori non nostri debitori non abbandonarci alla tentazione liberaci dal malvagio che invece non ci vuole far rimettere agli altri i loro debiti perché quando tu rimetti a marito moglie che sia il debito e ci si perdona inizia una stagione bella per i bambini lo so che questo è duro non è un giudizio io capisco che queste cose sono il limite sono come una sono su un rasoio sono lì che sembra quasi queste parole sia un'accusa ma chi non è un'accusa dovete abituarvi però lasciare ai bambini lo spazio che qualcuno dica qualcosa per loro dalla loro parte anche se ti è andata male e magari era anche la situazione nessuno dovete non passare sempre al personale è ma io 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 la mia situazione è nella mia situazione mi sono separato come potevo fare diversa ma chi sta parlando di te adesso sto dicendo che nel mondo dei bambini quello che amano è il perdone la comunione tra due adulti odiano le persone che litigano gli piace le persone che si vogliono bene stanno male quando si litiga in una famiglia ma fosse anche uno zio col fratello capito fosse anche la nonna col nonno perché un conto sono le litigatine che possono anche ridere ma se litigassero seriamente i due se io litigassi con mia sorella le mie nipotine soffrirebbero tantissimo se io arrivassi a casa litigato come se non ci perdonassimo a vicenda le più che cose che dobbiamo perdonarci sarebbe un problema per i miei nipoti sarebbe un carico che li mettiamo la santità significa perdonare e ci vuole tutta la potenza dello spirito santo per perdonare non è una cosa che mi strizzo gli occhi e mi sforzo a perdonare al loro perdono vorrei semplificare che cos'è la vera santità non è una perfezione di cose fatte tutte bene in tanti ambiti è una perfezione nell'amore la santità i bambini proprio come i santi sono spostabili tempo fa raccontavo ecco mentre dio non manipola noi adulti possiamo manipolare i bambini li facciamo gliela intortiamo gliela raccontiamo li possiamo spostare come vogliamo dio non ti intorta mai dio è serio cioè tratta i suoi santi come i bambini li tratta seriamente gli adulti invece possono manipolarli vi raccontavo raccontavo alla messa un episodio realmente avvenuto cioè ero in treno un treno regionale da milano a vercelli eravamo seduti in uno scompartimento eravamo in quattro e c'era mamma con bambino così in diagonale e c'era un altro seduto bene noi adulti eravamo tutti lì con la nostra tecnologia io stavo dicendo sul tablet l'ufficio davvero ero lì che stavo dicendo l'ufficio la mamma sul cellulare il piccolo bambino che poi risultò chiamarsi davide era troppo bello avrà avuto 8 9 anni tutto vestito composto stava così con le mani lo scartato l'isolato gli adulti tutti chini a non guardarlo sui loro sulle loro macchine io sapete che non sono riuscito andare avanti a dire l'ufficio ho dovuto chiudere il tablet perché stavo troppo male a vedere dico sono qua con te ci sono ecco ti guardo eccoci e poi raccontavo a messa questo quello che è avvenuto un certo punto ci fermiamo una stazione e davide dice ma mamma ma che cosa sono quei fiori lui stava indicando i fiori tra le due rotaie del binario è rimasto stupito che ci fossero in un posto così orribile dei fiori che sbucavano fuori evidentemente cosa che tra l'altro mi commuove perché la noto sempre anch'io dico ma come fanno sti fiori a uscire in mezzo in un posto così osceno dei due tra i due binari i fiori la mamma senza neanche alzare l'occhio dell'iphone dice ah ma sarà morto qualcuno se lei credeva che fossero abito che qualcuno c'è stato un incidente e qualcuno che aveva messo i fiori nel vaso allora io lì non ce l'ho più fatta e ho detto no ma guarda si vede che che il vento ha portato dei semini lì in mezzo ai binari sono cresciuti lì a quel punto la mamma dice ma chi è queste strane che parla con mia figlia e allora guarda per cercare di capire e allora il bambino sentendosi comunque visto mi dice ma come mai non vengono schiacciati dal treno è perché i treni sono un po sopraelevati cioè il motore non è che proprio tu quindi passa e senza schiacciarli fa un po di vento si si piegano però diventano belli più forti ho detto questa cosa qua c'è problema se tu ti rendi conto che l'avete sono scende che avete visto tutti quante volte tutti capita che un bambino una volta raccontato un mio confratello un'altra scena era 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 in pizzeria e vedeva questa sembra un bambino una bambina che è stato preso dal padre della madre lui da solo lei da sola a mangiarsi sta piccola pizza da solo e tutto il tempo della cena il padre a guardarsi il suo cellulare il suo iphone così con questa bambina tristissima ma dov'è l'infanzia l'innocenza ma veramente ci vuole un laurea in pedagogia per capire che tu hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a uscire da un buco così e renderti conto che sei con tua figlia far la fatica di guardarla di parlarle di dire qualche cosa mi ha fatto ridere questo mio confratello che è molto mite di solito ma mi veniva una voglia di alzarlo di prenderlo a sberle e di dirgli ma oh ma guarda tua figlia come triste solo che il problema che tu dici questa cosa qua e se tu la dici gesù però ha detto di non giudicare è così eh c'è ad esempio nei social sarebbe così racconto le stesse cose sui social cosa viene sotto i commenti ma tu che sei prete tu che non hai neanche una famiglia tu che non sei la fatica tu che qui tu che là tu che pontifichi sotto i leoni da tastiera e tutto eccetera eccetera che che cominciano oh ma questo è giudicare non è che ti giudico diceva di fronte allo stupore di questo bambino cioè quando un bambino ancora stupore tu gli ammazzi lo stupore cosa sono quei fiori che li ha detto no sono è morto qualcuno per essere morto qualcuno è una pietra tombale capito senza manco alzare gli occhi così sei lì che fai così mamma ma che cosa sono questi fiori ma deve essere morto qualcuno canzone citazione alta giovanotti canzone fango l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire a sentire più niente cioè l'unico problema che rischio di sentire che non riesco più sentire niente e quindi figurati se i bambini i bambini come i santi sono scartati come gesù diceva il grande chesterton ogni generazione cerca il proprio santo per istinto e questi non è quello che la gente vuole ma piuttosto quello di cui la gente ha bisogno ogni generazione è convertita dal santo che più la contraddice cioè il santo contraddice la sua generazione la contraddice non la non la incelsa non la loda ma veramente c'è una grande difficoltà a incelsare questa generazione comunque parlando di santa teresina bisogna farlo però in modo non amaro pieno di speranza diceva parlando di santa teresina di lisioe lo scrittore francese bernano disse il messaggio che questa santa porta al mondo è uno dei più misteriosi e dei più pressanti che so abbia mai ricevuti il mondo sta morendo per mancanza di infanzia ed è proprio contro di essa che i semi dei totalitari puntano i loro cannoni e i loro carri armati bernano no pensate oggi ecco questi sono quelli profetici ve la rileggo il mondo sta morendo per mancanza di infanzia ed è proprio contro di essa che i semi dei totalitari puntano i loro cannoni e i loro carri armati e allora come concludo con una preghiera che forse più vicini perché i passi come sempre sono un momento di cristallizzazione di cose meravigliose che poi rimangono nel tempo tu magari vengono fuori in un pensiero vengono fuori in un'omelia vengono fuori in un incontro vengono fuori in una conversazione e poi passi sono l'occasione per cristallizzare tutto il meglio che ha incontrato su questo punto colletta colletta non è il femminile di colletto ma è la preghiera dell'inizio della messa la colletta del giovedì seconda settimana di quaresima o dio che ami l'innocenza e la ridoni a chi l'ha perduta o dio che ami l'innocenza e la ridoni a chi l'ha perduta come fai a riconoscere un santo sì non solo perché scartato perché uno che gli viene restituita l'innocenza più passa il tempo più diventa innocente cioè con uno sguardo che fa quasi male se tu guardi certi quadri di certi santi ti perforano perché hanno la libertà dei bambini hanno da adulti con la potenza di dio sono ritornati i bambini guardano le cose non sono indisponibili sono dei sono dei piccoli selvaggi perché loro dicono le cose come sono quindi dicono che il re è nudo dicono che quello che non va non va fratelli e sorelle non bisogna essere né io credo che sia una sorta di sguardo acritico sulla nostra modernità e sulla nostra contemporaneità acritico adesso si fa un grande parlare di intelligenza artificiale ma l'intelligenza artificiale scalderà i nostri cuori ci farà sentire più felici ci darà amore non ci darà niente l'intelligenza artificiale ci darà una presunta conoscenza superiore ma si può fare dicevo ai miei allievi un abbraccio con l'intelligenza artificiale non si può fare un abbraccio con l'intelligenza artificiale vuoi fare un robot che fa ma sentirei sempre che un robot l'intelligenza artificiale non ti può dare le uniche cose fondamentali che sono il calore di un abbraccio dio si è fatto carne dio si è fatto carne non si è fatto intelligenza non sono i più intelligenti anche se santi intelligentissimi sono diventati ritornati bambini tipo tommaso d'aquino geni sono ritornati i bambini già due alle metra inventore della teoria del big bang era era un sacerdote tutti quelli in un cammino di conversione per ritornare bambini allora l'intelligenza artificiale avrà dei vantaggi avrà qui e avrà là e tutto ma un abbraccio di si è fatto carne un abbraccio non si potrà mai essere fatto le cose più belle non sono non si potranno fare con la stampante 3d certi oggetti di artigianato certe cose non si potranno mai fare in quel modo soprattutto ma se anche se arrivasse a fare degli oggetti con l'intelligenza artificiale e può darsi un abbraccio no e io sapete cosa me ne faccio dell'intelligenza artificiale se nessuno mi vuole bene niente mamma tranquillo niente vuoi solo dire niente non me ne faccio niente e qui finisce la catechesi adesso grazie ad elisa avremo un momento di così un momento di silenzio di musica dove c'è la possibilità di ma per continuare un confronto ecco c'è stata la parte frontale però adesso c'è la parte delle vostre domande vi invito proprio a essere così aperti il vantaggio dell'anonimato è proprio quello che c'è la possibilità ci sono anche le penne nuove quindi bene diceva albert einstein che la vera arte come la vera scienza scaturiscono dallo stupore senza lo stupore non c'è né vera arte né vera scienza cioè anche la scienza non è semplicemente una fredda valuta a come stimolo lo stimolo della scienza è proprio questo stupore diceva einstein così come penso a come sono bravi certi artisti che hanno proprio cuore hanno conservato come questo sguardo non infantile ma dell'infanzia lo stupore del bambino guardare le cose con gli occhi del bambino uno di questi è steven spilberg cioè su molti di sui film di successo hanno proprio questo questa caratteristica tu vedi la un adulto che ancora lo stupore di fronte alla realtà del bambino come comportarsi con chi scandalizza i bambini come si combatte con chi vuole traviare le loro innocenza con atti o ideologie sono un docente mi sembra che il primo interesse di tanti colleghi sia quello di influenzare l'opinione dei ragazzi con le loro ideologie immagino che lo stesso accada alle scuole materne elementari io immaginavo che ecco la parte diciamo delle domande è la più complicata questa volta perché si cercano delle soluzioni che non sono a buon mercato e poi soprattutto bisogna sempre aver chiaro essere d'accordo in che contesto ci troviamo e anche capire quali spazi di libertà ci siano io credo che qua il condizionamento esterno è talmente oserei dire stritolante ma proprio stritolante cioè le cose descritte non so cosa si possa fare a volte sembra di dover frenare a mani nude una valanga ecco se è vero quello che abbiamo letto bisogna frenare quindi la pista che io percorrerei è quella proposta dentro alla testimonianza che ho letto così integralmente noto che i bambini se trovano un terreno in cui possono svilupparsi secondo la loro più vera natura danno subito dei frutti molto belli quindi io penso la risposta al mio collega è hai la grazia e la libertà di poter fare un'ora di lezione tu te la devi giocare su io un'ora di catechismo alla settimana con questi bambini sono perfettamente cosciente che comincio a intristirmi a pensare a fare le analisi solo sociologiche ma quante di queste famiglie poi vanno a messa non vanno a messa chi poi li porta ancora cosa sentiranno a casa mi sparo finiscono depressione cosmica ma non funziona così io ho l'opportunità meravigliosa è come se giocassi tutto con quei bambini lì senza doverli versare qualcosa dentro ma rispondendo alle loro vere domande che alla luce di tanti anni di catechismo ripeto sono domande vertiginosamente profonde e serie e quindi è come se io avessi solo quell'ora e dio che ha moltiplicato cinque panni e due pesci moltiplicherà anche la mia povera ora di catechismo sì o no scusa eh ha moltiplicato i panni e i pesci un'ora di catechismo non gli piace sbagliato ragionare così ecco io ragiono così cioè non perdo la fede il tempo che mi ha dato ma anche un incontro oggi ho avuto un incontro io semplicemente non è che avevo delle grandi cose da dire si è concluso l'incontro e ho detto spero che tu sia stato bene sì sì sono stato bene l'intenzione profonda è quella che di fronte a tanto freddo vorrei essere caldo cioè il caldo di dio arrivi attraverso di me e dio esaudisce dio fa c'è molta fiducia in dio nella sua capacità che con poco 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 lui prende e moltiplica ecco questa è l'impostazione di un docente che ha ancora fede in gesù cioè noi abbiamo vinto volevo dirvi tecnicamente non è che le ideologie non contano niente passeranno i cieli passerà la terra la mia parola non passerà che resti dell'ideologia del potere niente ci si ride sopra dovremmo essere come guareschi avere quella capacità ironica di sbeffeggiare con grande stile grande classe quello che sembra assolutamente intoccabile o il re è nudo ecco cioè bisogna ritrovare quella quella santa capacità che alcuni comici hanno non lo dico più perché porta male che sono poi certi comici hanno quella capacità di essere con i buffoni medievali che ti dicono il re è nudo il re è nudo dov'è il limite tra il farli crescere nel bene nella bellezza del buono esporli alla verità del male guerra e angoscia per ecco secondo me il limite la mediazione se vogliamo la mediazione è il compito dell'educatore compito trovare le parole mi state sto dicendo che è facile no 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 non è per niente facile come ad esempio quando si deve parlare in modo vero serio poetico non volgare non so del come è nato gesù che gesù sapete sapete come è nato gesù come lo spiega un bambino senza buttarla o non glielo dici o in burletta cosa crede un cattolico è stupido un cattolico credere quello che crede cioè io sono stupido credere quello che credo dico così ai bambini ma proprio così l'ho detto mercoledì scorso tre giorni fa allora gesù non è nato da un rapporto d'amore come capita tra un uomo una donna un uomo una donna c'è un abbraccio speciale d'amore nel quale nascono i bambini da questo abbraccio c'è una parte dell'uomo un semino dell'uomo una parte della donna e fondendosi metà del codice di dna maschile quello femminile insieme vanno a costituire la prima cellula del nuovo individuo che si chiama zigote ecco gesù bambino è stato uno zigote la parte umana materiale data da maria e l'altra c'è stato l'intervento diretto di dio cioè maria e giuseppe non hanno fatto l'amore non è nato così come nascono tutti i bambini gli ho scandalizzati no adesso mi dovete dire se gli ho scandalizzati sono stato volgare no gli ho parlato seriamente lo credo si può una cosa che io sto rivalutando e capendo a volte mi fa quasi paura però è fondamentale si chiama tecnicamente la gravitas è difficilissimo la gravitas non ridacchiare scherzare o ridere quando tutto il mondo terno te ride cioè tu devi essere come una specie di gli occhi del serpente alcuni possono aver paura di questa cosa qua puoi far paura ma tu fai paura padre volizio io quando non c'è da ridere non rido non quando parlo di sesso non rido mai quando parlo non parlo di sesso parlo parlo dell'amore tra una donna non rido mai lo sghignazzo non la butto in cacciara quando ne parlo e questo è molto gradito dai bambini se devo dire una cosa c'è la gravitas è qualcosa di molto di molto importante credo da non genitore mi chiedo come si fa a sapere se l'educazione l'ambiente familiare che si sta fornendo effettivamente un ambiente ideale per il corretto sviluppo e la crescita del bambino bambina ci saranno sempre credo cose che si sbagliano no ma questo è sicuro e per questo che io vorrei dire che anziché preoccuparsi di un errore dell'ammaculo ho sbagliato non ho sbagliato ma concentrati sull'essenziale hai un bambino l'unica cosa la cosa più importante è un amore profondo tra voi due la comunione fra voi due che vi stimiate che abbiate piacere di stare insieme che avete piacere di parlare anche delle cose vostre che avete piacere di fare l'amore perché anche se un bambino non lo vede c'è soprattutto il piacere di stare assieme come uomo e donna è la cosa più bella per un bambino questa è la cosa fondamentale che capisce che quando si relaziona non si relaziona con l'uno con l'altro ma si relaziona con un noi detto questo non si potrebbe disquisire su questa cosa tecnicamente educativamente meglio farla meglio farla a quest'età meglio farlo non l'età si poi questa parola sbaglio lavoro e sbagliare di sbagliare ci si preoccupa di sbagliare su altre cose su certe cose e poi a me sembra che ad esempio la paura di sbagliare non rispettandosi non avendo un atteggiamento veramente buono con l'altro paziente rispettoso quando faccio il corso i fidanzati sottolineo spesso che la parola onorare non viene non è non è non è valorizzata amare tanto non vuol dire niente tutto e niente ma onorare si potrebbe capire che cosa vuol dire beh non siete d'accordo come solito discorso di dialogo tra di noi ma non siete d'accordo con me che un bambino gradisce quando il papà onora la mamma e la mamma onora il papà questo è un ambito educativo poi ci si può confrontare sulle decisioni pratiche sulle cose concrete ma se c'è questa stima questo onore dato l'uno all'altro poi le soluzioni pratiche sono basta un po di buon senso vengono fuori non sono cose così complicate o così difficili da tirare fuori ma se c'è il disprezzo io volte ho visto il disprezzo negli occhi di certi mariti di certe mogli ma poi davvero ti preoccupi della questione educativa se tu disprezzi la persona che è accanto ma soprattutto non mi preoccupa neanche se hai la tentazione di disprezzarla ma se non fai niente per contrastare questo disprezzo per prima cosa grazie per aver trattato con coraggio e onestà un tema tanto spinoso chi ha figli grandi e non ha occasioni diretti di accompagnare bambini nella crisi ma come può promuovere una riflessione consapevole in chi invece si lascia vivere seguendo queste modalità così degradanti per i bimbi non lo lo so io penso che molto difficile io naturalmente mi ripeto non è che mi scuso perché mi ripeto è evidente che mi ripeto miliardi di volte e per me è sempre uno stupore di vedere le persone che hanno piacere di ascoltare perché è una ripetizione cioè io credo che il clima veramente esterno sia veramente stritolante quindi uno può essere afferrato da un senso di impotenza io vorrei dire a chi ha scritto questa domanda io non so cosa saranno i tuoi cinque panni o due pesci cioè quel qualcosina di così minuscolo che ai tuoi occhi appare niente ma che presentato alla potenza di dio cioè intendo come telefonata fatta uno spunto non so vi faccio un esempio io ho dal punto di vista degli stimoli sono pieno di spacciatori cioè ho degli spacciatori cioè della gente che mi manda roba buona non faccio nomi però tu sei qualcuno che mi spaccia sempre roba buona quando mi arriva qualcosa da là qualcuna è sempre roba buona lei proprio mi spaccia bene quando arriva qualcosa da lei non la snobbo mai perché dico ai 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 mi ha mandato due tre cose che poi sono diventate che cosa ho un articolo di come dire una cosa su Natalia o Natalia Ginzburg come si dice Natalia o Natalia Ginzburg? Natalia? Natalia? Natalia Ginzburg? Natalia o Natalia? Natalia? Ecco uno dice Natalia e l'altro Natalia mettete d'accordo allora dobbiamo capire se Natalia o Natalia se no non si può andare avanti capito? ecco alcuni genitori fanno così alcuni genitori fanno così ma è Natalia? No è Natalia? No è Natalia? No è Natalia? Ma è Natalia? Ma è Natalia? E non ti dicono più quello che stavano per dirti cioè comunque mi ha mandato un articolo una cosa che ha scritto sulla donna ecco io sono rimasto proprio boh è una delle cose più belle che io abbia mai letto che abbia mai è veramente scritto da una donna per le donne impressionante veramente di qualcosa di bello ecco quando tu hai tra le mani qualcosa che sembra che abbia un valore non so per dire tu pensi ad esempio che una riflessione di un passo una citazione di un libro fatta in un passo abbia valore io questo lo penso perché dietro c'è una riflessione tante volte un pensiero, uno studio beh ma tu puoi anche affaticarti a sbobbinare un pezzettino cioè ti metti lì, lo riascolti, ti prendi il pezzo proponi a qualcun altro che magari hai figli un qualche cosa ti prepari per farlo con umiltà, non con saccenza, non con aggressività cioè io credo che queste cose abbiano valore cioè anche dire in modo per bene una cosa ti trovi la situazione di caso eclatante i genitori che seguono il bambino oggi vanno a scu... ecco questo è un altro contributo meraviglioso di una giovane mamma non l'ho letto perché è talmente bam bam cioè che volevo stare un po' sotto Natale a non essere troppo aggressivo però effettivamente adesso lo leggo cioè no cioè lei dice sintetizzando ed escludendo i profili delle celebrità cioè c'è questa cosa che si chiama non mi ricordo già più il nome inglese di sto schifo qua comunque c'è un nome inglese per dire anche questa cosa qua cioè quelli che praticamente postano continuamente cose sui loro figli cioè mettono sui social anche tutto il momento oggi facciamo oggi si svegliano la colazione li portiamo a scuola cioè tutti i momenti della famiglia diventano social ecco e ha un nome inglese gente assolutamente comune che non ha competenze particolari che spesso nemmeno lavora ma che accumula visualizzazioni e like che si traducono quindi in follower e di seguito in sponsor pubblicità quindi di fatto in soldi grazie alle narrazioni sui piccoli chi ha tanti figli crea storie quotidiane raccontando semplicemente la vita dei bambini dalla mattina alla sera la colazione la scuola e le attività i viaggi le feste tutto diventa un racconto in immagini in una famiglia numerosa se i più grandi andando avanti magari mostrano un po' di insofferenza poi dopo diventerà omicidio nella fase successiva ci sono sempre i piccoli così carini e teneri disposti a essere ripresi senza troppe storie poi c'è il momento deve essere socializzato sui social il momento dell'attesa del bambino poi i ballettini poi la scelta del bambino del sesso del bambino e di altri video cioè lei fa proprio è impietosa meravigliosamente graffiante impietosa nel descrivere tutte queste cose qua è talmente duro che io non riesco a reggere però ho riso molto nel leggendolo ma mi è piaciuta molto una cosa che dice quando i bambini vengono ripresi e trasmessi devono essere quindi sempre felici per nutrire di contenuti la comunità dei seguaci appassionati e a pagare il desiderio di visibilità cioè l'unica cosa che i video non ti fanno vedere è quando il bambino sbrocca quando fai capricci quando c'è quei momenti oppure quando dice oh mamma ma la pianti cioè ci sei sei per me oppure mi stai usando per qualche cos'altro vogliamo stare io e te anche se non ho la capacità di dirtelo ecco mettiamo che ci sia un genitore che fa così e qua c'è questa signora che dice io non so trovare il momento il modo il luogo di dire guarda io non te lo dico come un follower che ti insulta aggredendo non mettendoci la faccia io ci ho pregato tanto mi sono veramente messa calma secondo me tu stai esagerando e stai perdendo il controllo e per farlo ad esempio mi ha mandato questa giovane mamma che vi ho detto invece un piccolo video della telecom tedesca non so se c'è Maria Elena cioè telecom tedesca comunque un piccolo video io non l'avevo mai visto su quello che si può fare con cioè come le informazioni che tu dai in pasto possono poi essere utilizzate cioè con l'intelligenza artificiale hanno modificato la bambina oggetto di queste fotografie l'ha fatto diventare grande e quindi hanno fatto questo esperimento sociale con i genitori al cinema che vedono a un certo punto comparire la faccia della loro bambina diventata grande con l'intelligenza artificiale che gli fa vedere che cosa ha sofferto a causa dei loro comportamenti e lei dice io lo so perfettamente che voi l'avete fatto in buona fede senza nessuna cattiveria e proprio per questo è ancora più grave e fa vedere quanto è grave mettere in pasto di chiunque e che non sai chi è la faccia i corpi l'intimità dei tuoi figli ecco questo mi sembra un contraddire la mia generazione se io però vedete il problema che questa cosa io la dico la sto dicendo in pubblico ma vale il discorso della volta scorsa se io andassi a esprimere questa mia idea in un ambiente pubblico mi farebbero fettine mi farebbero pezzi se io mi mettessi a essere a mettermi sul palchetto social del mio profilo social e ma perché tu non sei sui social perché non fai una storia su instagram dove dici questa cosa qui dove sotto poi bababam bababam insulti eccetera chi sei tu per giudicare Gesù non aveva detto questo capite dobbiamo riappropriarci della realtà pubblica che è questa un incontro pubblico mettendoci la faccia dicendo quello che pensi cioè non è che me lo dico nelle sacristie me lo dico chiuso in camera mia lo dico ai miei amichetti faccio un incontro pubblico poi c'è anche la registrazione di questo incontro pubblico ma rispetto alla vivacità mediatica non fare allora cosa ti dice a me sembra il demonio cioè una tentazione ti dice beh se tu non metti questa cosa sui social se sei fuori dai social non sei nessuno ah sì se nel 2023 sei fuori dai social non esisti cioè io non esisto cioè mi volete far credere che non esisto cioè io col mio telefonino dov'è piccolino cucciolo io non esisto perché ho un vecchio Nokia così non esisto cioè il mio pensiero non conta nulla perché non ho il potere social di incidere non conta nulla le mie idee non contano soprattutto la intelligenza artificiale non potrà mai pregare quando tu preghi sai cosa me ne faccio di intelligenza artificiale niente niente mi aiuta l'intelligenza artificiale per la cosa più fondamentale di tutte cioè pregare finché un uomo prega allora io credo che tu che hai fatto questa domanda se tu proponi in modo perbene in modo ironico in modo simpatico basterebbe far vedere dire guarda ma anche il porgere le cose capito cioè se tu hai questo video è molto duro io sono colpito vedendolo questo dei genitori che vedono sul schermo la figlia e che da grande gli dice cosa è stata la sua vita a causa delle cose che i genitori in buona fede avevano fatto postando miliardi di cose se tu la devi capire imparare anche da qualcuno a porgerla a porgerla con delicatezza cioè non dire oh devi vedere questo video devi vederlo con un atteggiamento da invasato se tu impari l'umiltà dal nostro signore dire guarda io ho incontrato questa cosa me l'hanno fatta vedere la mia amica me l'ha mandata a me mi ha molto turbato ti dico la verità mi ha colpito però magari dacci un occhio è diverso è diverso e sono sicuro che una breccia magari può venire anche da un piccolo video che ti viene mandato da un amico cioè io credo che noi l'idea è che noi siamo impotenti non possiamo fare nulla perché intanto il mondo non cambia con una piccola azione io a questo non ci credo non ci credo non ci credo cioè credere che siamo 200 persone e poi lo guardano il video lo scorso video l'ha guardato 5.000 persone pensare che eravamo qua un mese fa 5.000 persone hanno guardato il video della scorsa volta pensare che che questo non valga niente che non serve a niente ma soprattutto che non valga niente quello che avviene adesso tra di noi tra noi tra quanti siamo chi se ne frega del numero i cuori che sono qui le intelligenze sono qua quello che stiamo dicendo scambiarsi le idee non ha valore ma stiamo scherzando cambia tutto credere che che non ha valore ciò che non è mediatico ciò che non è televisivo ciò che non è mainstream ciò che non è non viene cosa è la prima forma di servimento e di debolezza che invece chi conserva una dignità mantiene quella questo un incontro pubblico al centro di Roma sabato pomeriggio prima delle feste con il blocco dello ZTL con la gente che è scatenata per sbaglio e siamo qui a parlare di infanzia e innocenza ma insomma ma va proprio così male questo mondo non possiamo volerci bene tra di noi non cambia niente se ci siamo noi se ci stringiamo noi non cambia niente dai su recuperiamo il senso della realtà e non facciamoci sempre rattristare dall'idea che non vale nulla quello che noi possiamo fare rispetto all'adolescente sento che ora però si parla di bambini quindi l'adolescente per una volta li lasciamo stare adolescenti la leggo per rispetto rispetto all'adolescenza sento che ora nei quasi 30 anni della mia vita ho lo sguardo più da bambina come se sentissi un legame più vicino con la mia infanzia e i pensieri e le riflessioni che facevo da bambina per questo ho molta più serenità ora però a volte ho la tentazione vedendo le persone a prima vista scambiarmi per una ventenne di pensare che non sono cresciuta magari perché non ho lo sguardo adulto che bella scusa meno male che rischiavo di pervedermi questa domanda meravigliosa qual è la linea sottile fra queste due cose la linea sottile non è una linea sottile è una scelta di campo si chiama santità fidati di Gesù Cristo se non ritornerete come bambini non entrerete nelle linee dei cieli oggi dicevo in un altro incontro ma se tu suoni uno strumento musicale mentre tu vai al conservatorio già andare al conservatorio tutti ti guardano dire al conservatorio ma vuoi morire di fame è così che ti dico non dico così questo è mordor cioè questo è la violenza ma scusa uno va al conservatorio a suonare il flauto attraverso eh cioè tu nel 2023 vai a morire di fame a suonare l'epifero in giro ma io non lo penso io non la penso questa cosa io penso un'altra cosa io penso bene che suoni il flauto tu non morirai mai di fame ma davvero non morirai già di fame l'unica cosa che ti dico impara a suonarlo alla grande bene poi tu puoi andare dove vado oggi a piazza Navona oh uno mi ha detto che suonando la chitarra da me l'ha detto un mio confratello che è un suo amico suonando la chitarra tra l'altare della patria e il colosseo in poche ore tirava su 50 euro e diceva e cuccavo pure andavo pure con le ragazze con le straniere 1500 euro al mese meravigliosamente black tax free oh ma sai quanto è si deve tagliare ma perché perché io non lo capisco perché questo non la tagliamo questa non la tagliamo questa è benedetta sta cosa qua dai tu la dori allora le ho detto ma per favore ma visto che fai il conservatorio perché ti piace suonare quando ti eserciti per favore un po' di fantasia ma perché lo devi fare nella tua stanzetta chiusa imprigionata in camera vai bella giornata vai a Villa Panfili ti metti su una panchina a favore di sole ti metti il tuo coso così provi lì quando sei già quello crei un ambiente immagino tu vai a Villa Panfili tutti ecco quelli sono intelligenti quelli con le tutine aderenti tutti caratteri riflagenti con lobotomizzati con le cose all'orecchio che vanno in giro come delle lontre in giro per la città quelli sono normali la studentessa di conservatorio che inziché provare chiusa va all'aperto col flauto è un po' originale ma che mondo è operavo il mio bellissimo cappellino vado a prenderlo un attimo Thomas lo so che non si fa però vado a prendere il mio cappellino che volevo farlo vedere ma qua ho questo cappellino tanto la registrazione va avanti e allora chiedevo ma pongo questa domanda questo cappellino questo è un cappellino da prete ma perché no perché no cosa ha questo cappellino che non fa perché non bisogna metterlo a me piace a me mi piace ma perché non posso metterlo no un altro ancora più più carino ma perché non posso mettere un cappello così perché perché questo è un altro discorso posso ma davvero non è abbinato ma a me no a me sembra che ci stia anche perché c'è il nero che richiama il nero è vero che blu è nero burino vero però c'è anche il nero su nero e anche questi colori un po' neutri che non è il massimo però col giaccone ci stava bene cioè ma perché tu non puoi recuperare quella libertà serena che quando non fai male non fai niente di male a nessuno ma vai a provare col tuo flauto al pa poi quando sei pronta quando sei pronto e sei vai vai in piazza Navona cestino carino per i miei studi per i miei studi tu inizi a suonare cioè se non c'è il racket delle castagne e che arriva qualcuno dire è bella qua non ci puoi stare questo è il nostro territorio cioè perché a Roma questo succede solo le castagne possono stare cioè se tu suoni il flauto non puoi stare cioè ma se tu suoni il flauto tiri su e puoi andarti a pagarti un piccolo viaggio una cena uno strumento o sbaglio ma è così fantascientifico è così sbagliato ecco io direi che con la rispondendo alla domanda con la potenza dello spirito tu ritorni bambino anche in una certa libertà interiore e ti preoccupi solo di amare le persone di non giudicare di non condannare ma quando hai fatto questo e tu rispondi al buon Dio e dici ma signore io non odio nessuno benedico tutti la cosa più importante sono a posto ma posso mettermi il cappellino che voglio e se mi diranno che hai uno sguardo non adulto beh ci sarà un ragazzo un uomo che ti sta aspettando così come sei e dice guarda sono stanco di trovare delle donne con il sguardo arrabbiato nervoso incavolato ho trovato ancora un po' di innocenza nei tuoi occhi ed è una cosa molto bella se si può ancora dire dovremmo chiedere perché i genitori non si pongono il problema di come educare i loro figli e di come comportare comportarsi perché non soffrano e dunque perché non capiscono che debbano anteporre le esigenze e i diritti dei figli e loro bisognerebbe istruire i genitori ma non lo so questo non lo so se bisogna istruire i genitori perché tanto il fatto che in questo senso non credo all'istruzione ecco perché mi sa tanto di rieducazione allora è molto pericoloso il fatto di io credo che siamo dotati tutti di una grande intelligenza di un grande buonsenso volendo e che quando ci fermiamo a riflettere con saggezza tante cose le capiamo forse anche bisogna aspettare il momento giusto per capirle quando hai parlato della mamma intenta al suo telefonino e della solitudine di Davide ho pensato che ora molti genitori danno il telefonino ai loro figli per tenerli buoni si può dire quanto male fanno telefonini e aggegissimi dei bambini essi sono così privati appunto dell'abbraccio che vuol dire anche guardarsi negli occhi e vedere i sentimenti dell'altro beh diciamo che io non è che posso essere un grande testimonia dei telefonini non credo che l'iPhone mai mi assumerà per fare il testimonia di questi aggeggi del dimonio però detto questo credo che ci sia un grande acriticità ecco nell'utilizzo di questi strumenti il mondo c'è una sorta di dogmaticità che tu devi parlarne in un certo modo devi dire certe cose e che la criticità viene liquidata troppo facilmente con eh vabbè tanto non si può tornare indietro e vabbè ma allora cosa facciamo vuoi tornare al medioevo e io dico magari no però magari il medioevo producessimo poi cosa mi resterà dell'iPhone 15 quando ci sarà l'iPhone 35 cioè nulla e adesso è l'unica cosa che conta cosa resterà di un palazzo di un grattacielo che verrà buttato giù tra 20 anni 30 anni 40 anni 50 anni nulla e quando verrà buttato giù l'ennesimo grattacielo saremmo ancora lì a prenderci un aperitivo piacevole nel centro storico di Roma senza ringraziare di Bologna senza ringraziare i nostri medievali ecco che ci hanno regalato dei luoghi meravigliosi ecco quando noi con l'intelligenza capiamo e ci riflettiamo secondo me si può arrivare a fin da quando ero bambino ora 32 anni ho sempre pensato che le cosiddette messe per i bambini fossero qualcosa di tremendamente stupido e inutile si dice non si fa ho detto sbagliato vero non dovevo dirlo mi sentivo se possibile scandalizzato da quella banalità neanche dirlo penso la stessa cosa ora che sono adulto tu cosa pensi ve la messe per i bambini dai però non mettermi in difficoltà ma dove si fanno ancora le messe per i bambini a me sembra che adesso ormai siano infantili le messe normale per gli adulti questo mi sembra che sia l'andazzo ecco diciamo così cioè la stessa serietà che tu neghi i bambini poi è paradossale perché poi assumiamo noi clericalmente con gli adulti un atteggiamento cioè adesso tutto si vuole può piacere non piacere può fare schifo cinque passi io faccio schifo sono istrionico sono buffone sono un pagliaccio tutto quello che vuoi però quando devo parlarvi seriamente vi parlo seriamente cioè parlo seriamente da adulto con degli adulti non è che comincio allora a fare la catechesi allora a volte mi sembra che che ci siano i bambini o non ci siano i bambini il tono sia molto paternalistico e molto infantile nei confronti buon Natale veramente c'è scritto buon Natale quindi questo è il biglietto conclusivo scelto dalla provvidenza per noi fermi che ci sono degli annunci allora ho scritto benedizione perché rischio sempre di non però dopo ci sono degli elementi fondamentali c'è in fondo un mercatino tutto quello che raccogliamo è rientra per le attività per fare queste registrazioni per tutto quello che vi interessa ci sono degli articoli molto interessanti che non posso pubblicizzare per motivi legali però sono molto interessanti le avete già bevuti quel succo di frutta è ottimo è vero un ottimo succo di frutta sì anch'io penso che la frutta è molto importante e quindi c'è questo mercatino che ci sarà anche domani sera poi questo passo lunedì andrà in onda e vabbè diciamo che come al solito io vi ricordo questa cosa del 5 per 1000 consideratela che per noi questo è un grande aiuto per chi non l'ha mai considerato se non avete già qualcuno aiutateci lunedì comunque 18 ci sarà questo passo se volete essere avvisati chi è venuto qua per la prima volta c'è o l'email nel blog 5passi.org si aggiunge la mail list oppure iscrivendosi sul canale youtube quello lì di oratorio prossimo passo 20 gennaio prima della benedizione è una prima locandina fatta con l'intelligenza artificiale tanto per dire non ci facciamo mancare niente il passo è sul controllo qualcuno ha problemi di ossessione del controllo ecco vedo qualche mano che si alza allora il titolo è senza freni sull'ossessione del controllo e c'è questa vecchietta un po' ingrugnita che guarda disapprovando il marito che va in giro in bicicletta così però questa non è intelligenza artificiale questa è l'intelligenza di che ha fatto la locandina che è sempre il solito che è un volpone cioè tu metti parametri gli dice fammela così fammela cosà mettimi questo qui metti qui nella cosà e poi ti produce questa bella quindi 20 gennaio un passo sul controllo sull'ossessione del controllo e stop quindi vi auguro di cuore veramente buon Natale non ricordatevi che quando sarete magari se ci sono dei momenti anche pesanti o magari addirittura tristi perché a volte le vacanze di Natale acquiscono certi dolori certe sofferenze certe solitudini ricordatevi primo che Gesù dice chiusa la porta della tua camera il padre tuo che vede nel segreto vede la tua preghiera non siete soli ha ragione Gesù cioè nessuno è mai solo Dio è lì è presente vivo palpitante anche nella persona apparentemente più sola abbandonata e 5 10 15 minuti vissuti veramente bene cioè con il buon Dio offrendo tutto al buon Dio possono far fiorire tutte anche le giornate precedenti che sono state faticose e soprattutto andate piano poca frenesia questa questa angoscia che prende tutto proviamo un pochettino a rallentare detto questo sentiamoci vicini accostiamo vicini gli uni agli altri pregando gli uni per gli altri sentendo anche un calore di comunità e accorgerci quando qualcosa di bello avviene questi momenti hanno qualcosa di bello perché le persone piano piano si avvicinano e questo è reale non è non è virtuale il Signore sia con voi per intercessione di Maria Santissima per intercessione di San Filippo Neri vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amen per le vostre famiglie e vostri cari le persone che amate i vostri amici di cuore buon Natale a tutti ciao chiediamo gennaio grazie a tutti a tutti Grazie a tutti.